Notizie sulle Radiomaria nel mondo Europa Ed è di mercoledì che a Kaunas, nel cortile della sede di Radiomaria Lituania, che affaccia proprio su una delle vie principali della città, la squadra di questa radio si unisce in preghiera per celebrare il Santo Rosario. Tante le persone che passando per caso da quella strada si fermano e si uniscono in preghiera. Una bellissima iniziativa, iniziata da poco, ma che sta già portando nuovi frutti. Africa Radiomaria Burundi ha celebrato ufficialmente i suoi vent'anni nel mese di aprile, ma ha voluto attendere il mese dedicato a Maria e alla mariatona per festeggiare questa importante tappa. Si sono infatti da poco conclusi tre giorni dedicati a questo traguardo della radio, caratterizzati principalmente da festeggiamenti e momenti di preghiera comuni molto forti, che hanno unito tutte le persone che amano Radiomaria e che hanno reso possibile questo miracolo di volontariato in questo paese africano. Tre giorni in cui si sono celebrati questi vent'anni di evangelizzazione, ma anche la mariatona di quest'anno. Le celebrazioni si sono concluse con una santa messa celebrata da Monsignor Bonaventura Naimana, arcivescovo metropolita di Giteca, insieme ovviamente al direttore di Radiomaria Burundi, padre Desiree. Nella sua omelia l'arcivescovo si è soffermato sullo straordinario successo di Radiomaria Burundi nell'annuncio della buona novella in questo paese e l'ha incoraggiata in questo ministero. Monsignor Naimana ha inoltre voluto sottolineare che Radiomaria Burundi è davvero un dono di Maria per tutti i suoi figli su questa terra. Anniversari Buon anniversario a Radiomaria Slovacchia, lingua ungherese, che oggi, 20 maggio, giorno dedicato a Maria, madre della Chiesa, celebra i suoi primi 12 anni. Con sede nella città di Yokai, località di confine con l'Ungheria, questa Radiomaria nasce nel 2012 proprio per i tantissimi fedeli di lingua ungherese presenti in territorio slovacco. Notizie sulle Radiomaria nel mondo Notizie sulle Radiomaria